Nuovo incontro oggi al Gal Vallo di Diano nell'ambito del progetto riscoperta e valorizzazione della ruralità mediterranea. L'incontro di oggi era rivolto alle aziende artigiane del Vallo di Diano con la finalità di acquisire e programmare progetti ed iniziative da inserire nelle misure del piano di sviluppo locale. Relatore della giornata di oggi Massimo Monti del Gal Vallo di Diano. L'incontro di oggi è rivolto praticamente alle categorie artigiane del territorio. Noi attraverso questo progetto di cooperazione interterritoriale stiamo praticamente contattando tutte le associazioni di categorie, tutti gli operatori del territorio perché vengano sottoposte a noi le loro aspettative, le loro istanze in vista della nuova programmazione. Cogliamo l'occasione di questo progetto interterritoriale che vede la copartecipazione di 5 Gal, di cui il Gal Alto Casertano è capofila in questo progetto, proprio per la riscoperta e valorizzazione della ruralità mediterranea. Questo è uno dei due progetti per la verità che stiamo portando avanti come cooperazione interterritoriale. L'altro è Cammini d'Europa che ci vedrà presenti sul territorio con diverse manifestazioni nei prossimi giorni. Siamo stati con le attività dirette del Gal, anche a Expo, dall'1 al 7 giugno scorsi e ci saremo nuovamente dal 17 al 20 per un nuovo appuntamento alla presenza di Col di Retti, Regione Campania, con tutti i Gal della Campania, proprio per valorizzare e dare visibilità al territorio del Vallo di Diano nel suo intero.